Calderolli a guardare il punteggio di gara 1 a 7 a 2, tra l'altro hai anche realizzato una rete contro Pesaro, è venuto tutto facile, avete fatto la gara perfetta, adesso però bisogna azzerare tutto. Sì, questo è vero, la partita già è finita, adesso si parte da zero, sarà una partita difficilissima perché pure la prima all'inizio, il primo tempo è stato tirato, una partita contro di loro, sono state sempre le partite così, partita equilibrata e adesso partiamo da zero e speriamo di fare bene pure questa partita. Come la state preparando? Come la prima? Sì, come la prima, ormai adesso ci conosciamo bene, sappiamo come giocano loro, pure loro sanno come giochiamo noi, adesso prepariamo al meglio. Conosci molto bene Fulvio Colini perché con lui hai vinto praticamente tutto, anche una Coppa Campioni, quando allenava il Montesilvano, unica squadra italiana ad aver centrato questo obiettivo. Secondo te, lui come sta caricando, come sta preparando questa partita? Lo conosco bene, è un bravo allenatore, è uno che sa spingere bene i giocatori, sta spingendo al massimo loro per arrivare qua con la concentrazione giusta e noi dobbiamo sapere arrivare allo stesso modo, con la grinta giusta, penso che sarà una partita bellissima per tutti che vanno lì a vedere. Concentrazione quindi testa, grinta cuore, poi la tecnica certo non vi manca né a voi né a loro, quindi bisognerà giocare, come dice Perez, soprattutto di squadra con la testa? Quello è vero, soprattutto di squadra perché sono piccoli dettagli che cambiano la partita, come è stata la prima, sono stati un minuto che magari ha cambiato dopo tutta la partita perché dopo loro devono uscire di più, devono rischiare di più e lì magari siamo stati più bravi per punire loro. Se avessi la bacchetta magica, qual è un giocatore del peso che faresti scomparire contro di voi, che non dovrebbe giocare? Guarda, io non farei mai questo perché penso che la... Puoi vincerla sul campo al completo. Bravo, a me piace giocare con i più bravi, penso che pure loro vogliono che tutti stiamo bene, pure noi vogliamo questo perché così è bello pure per il pubblico. A proposito di pubblico, sembra banale dirlo, però già in gara 1 credo che vi abbia dato un sostegno fondamentale, lo rivolete questo sostegno anche domani? Certo, certo, questo è un aiuto molto grande, speriamo che sarà pieno, che sarà una partita bella, completa, il pubblico dentro, chi spinge noi al massimo e speriamo di uscire lì con il nostro obiettivo.